è friabile è friabile qua c'è il buco della terra il buco siamo di qua si ma che metto anche il sigaro vuoi fare un tiro prima di scendere vuoi fare un tiro a scendere è sicuro a scendere sì ma salire è molto meglio peccato che non lo facciamo solo a scendere seve c'è attaccato un reggiseno dai la spostiamo di lì va bene o di qua di diritto tiro fuori la sbullona e la metto lì come ho fatto un'altra volta lo smogliamo tanto adesso quando arriva là fa la riempire riempie tutto sopra allora giù giù va bene fai un tiro grazie a tutti che ti viene Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma c'è da andare, che si avvangiano. Tanto arrivano al cimitero. Tutte le strade più difficili sceglie con loro. Perché scegli la più difficile? Tutte le strade più difficili. Spegnere!